Allora, come secondo esercizio facciamo uno un pochino più complicato, in cui simuliamo un pronto soccorso in ospedale. Allora, come immaginiamo che funzioni questo pronto soccorso? Che gli utenti arrivano e come prima cosa vengono classificati sulla base della gravità della loro situazione, il cosiddetto triage. Poi vengono posti, e quindi a ciascun paziente viene assegnato un codice, tipicamente codice bianco, codice giallo, codice rosso, cose di questo genere, che indicano quanto è grave. E poi vengono messi in strada attesa. Da questa strada attesa verranno chiamati in base all'urgenza. Quindi se c'è un codice rosso verrà chiamato sicuramente prima di un codice giallo. Se c'è più di un codice rosso chiameremo il codice rosso che è arrivato prima. Quindi la chiamata per curare il paziente andrà sulla base del codice della gravità come prima criterio e del tempo di arrivo come secondo criterio. Questo viene chiamato, viene trattato, viene curato e poi esce. Quando uno esce un altro viene chiamato dentro. In realtà più di uno perché magari dentro il pronto soccorso non è un dottore solo ma un certo numero di studi medici. Magari tre studi medici che lavorano in parallelo e quindi al mattino arrivano, entrano i primi tre, vanno nei tre studi medici, poi quando finisce uno dei tre studi chiama il prossimo e così via. Quindi avrò fino a tre persone attualmente in trattamento nei tre studi medici e un certo numero di persone in strada aspetto. Quindi noi possiamo avere una persona che arriva e non ha nulla di grave, non ha nulla o quasi nulla e gli viene segnato il codice bianco e viene messo in strada attesa. Poi possiamo simulare il fatto che se una persona è un codice bianco e dopo un po', mezz'ora, un'ora, due ore, tre ore, lì, si stufa, non lo chiamano, se ne va a casa. Quindi se entro in codice bianco possono chiamarmi oppure dopo un certo tempo mi stufo e me ne vado. Tanto non è nulla di grave, magari torno domani. Non mi servono perché ci saranno codici gialli e rossi davanti a me. Oppure mi attribuiscono il codice giallo. Allora io ho il codice giallo, vado in strada aspetto e visto che il codice giallo qualcosa avevo e se passa troppo tempo la mia situazione si aggrava. E quindi un codice giallo può diventare un codice rosso. Semplicemente perché ero giallo, quindi non ero ancora tanto grave, mi ho mai lasciato lì a macerare per quattro ore e mi sono aggravato. Oppure sono un codice rosso e quindi passerò davanti agli altri, però non è detto che, magari ci sono tanti codici rossi, non è detto che possa venire servito. E quindi dopo un certo tempo che sono in strada aspetto e se sono una persona che ha una situazione grave e sono in strada aspetto e aspetto per troppo, per troppo tempo c'è il rischio che diventi, diciamo così, un codice nero, cioè non ho più bisogno di essere curato, ok? E quindi posso passare in questa categoria. Quindi in certo senso ho un'evoluzione di quelle che possono essere, diciamo così, le varie persone in funzione del loro codice di gravità. Questo è ciò che succede in strada aspetto. Poi dobbiamo descrivere cosa succede invece negli studi dei dottori. Allora, possiamo ipotizzare che quando un paziente finalmente arriva in un studio di un dottore libero, se questo aveva un codice bianco, in dieci minuti me la cavo e lo mando via. Se invece il paziente che entra in studio era un paziente giallo, ho bisogno di più tempo, magari, non so, 15 minuti. Stiamo mettendo dei valori un po' a caso, no? Se invece arriva nello studio di un medico un paziente in codice rosso, beh, dovrò fare delle cose più complicate e quindi magari sono impegnato per 30 minuti prima di poter chiamare la prossima persona. In più, l'assegnazione stessa del codice non è istantanea, ma dura 5 minuti. Cioè nel momento in cui entri, varchi la soglia del pronto soccorso, al momento in cui l'infermiere ti ha riconosciuto, ti ha fatto le pratiche, ti ha assegnato un codice, un po' di tempo per questa operazione ci vuole. Quindi sono tempi tra l'arrivo e l'assegnazione del codice. Dimmi. Allora, tu stai dicendo potremmo impostare come variabili anche il tempo di triage in funzione della gravità. Il problema è che finché non ho fatto il triage non posso sapere qual è la gravità. Quindi, io mi arrivo un utente e come faccio a prevedere quanto tempo ci vorrà a guardarlo se non l'ho ancora guardato? Quindi qua ci ho messo un tempo indicativo, volendo potremmo mettere magari degli eventi aggiuntivi per trattare questo. Il livello di dettaglio può sempre aumentare, no? Si può sempre tenere conto di casi in più. Questi tempi li useremo per dire nel momento in cui questo paziente entra nello studio del medico, tra dieci minuti uscirà. Lì dentro c'è un mondo, cosa succede in questi dieci minuti? Non lo so. Perché dieci e non undici? Non lo so. È un valore indicativo, stiamo facendo una simulazione con un certo livello di approssimazione sui codici bianchi. Se volessimo fare una simulazione più precisa andremo a prendere i dati di un pronto soccorso, i tempi di servizio dei codici bianchi, vediamo che distribuzioni di statistica hanno e ci mettiamo dentro una generazione pseudo casuale che sia più o meno attinente come media varianza rispetto ai dati reali che raccogliamo dal campo. Potremmo farlo, no? Una volta che abbiamo il meccanismo in piedi si può sempre andare a migliorare il modello. Quindi, visto dall'alto, il mio mondo è fatto così. Arriva il cliente, il cliente, perdono, l'utente, paziente, che sta male, azione di triage, sala d'aspetto, studio di medici, fuori. Se va tutto bene, si procede da sinistra verso destra. Questa ci permette di capire che il singolo paziente può essere in più luoghi diversi. E io in qualche modo devo tenere traccia di quali pazienti ho, dove sono e che codice hanno. Non è come le auto, ne ho 17, ne ho 15 in garage, ne ho data fuori una. No, quale? Quale paziente è passato? Perché ovviamente devo prendere quello che è il codice rosso, se ce n'è almeno uno con il codice rosso. Quindi non posso semplicemente tenere conto del numero di pazienti presenti. Devo sapere ogni paziente che codice ha e a che ora è arrivato. Perché a parità di codice colore devo andare a prendere quelli che sono arrivati, che sono in attesa da più tempo. Ok? Quindi qui il modello si complica perché non mi basterà avere solamente il numero di pazienti, ma dovrò avere una lista dei vari pazienti. Con la loro storia, con la loro situazione. Che codice hanno, da quanto tempo aspettano e dove si trovano in questo momento. Sono in strada d'aspetto, sono in triage, sono in uno studio medico oppure sono già usciti. Quindi vedete che il modello che dovremmo costruire si complica. E quindi queste sono le informazioni. L'informazione principale è avere l'elenco dei pazienti e per ciascun paziente qui ho scritto lo suo status, ma in realtà mi serve anche il tempo di arrivo. Ho dimenticato di scriverlo. Io qua ho provato a riassumere in un diagramma tutto quello che può succedere a un paziente. Questi non sono ancora gli eventi, però si avvicinano. Sono le possibili vite di un paziente. Allora abbiamo detto paziente nuovo, faccio il triage e diventa bianco. Paziente nuovo, faccio il triage e diventa giallo. Paziente nuovo, faccio il triage e diventa rosso. E questi tre stati sono tre stati di weighting, cioè sei diventato bianco o giallo o rosso e sei in strada d'aspetto. Poi dopo un certo tempo si libera dalla sala d'aspetto, puoi passare allo studio medico. Treating, ti stanno curando. Quando è che avviene? Allora il passaggio da sono arrivato a sono in strada d'aspetto avviene dopo un tempo che appare il tempo di triage. Il passaggio da sono in strada d'aspetto a sono in cura non avviene dopo un tempo noto, ma avviene al primo studio medico libero quando si libera un studio medico, che andrà ovviamente prima di tutto a cercare questi, se non ce ne sono va a cercare i gialli, se non ce ne sono va a cercare i bianchi. Quindi tu passi dal tuo stato della sala d'aspetto allo stato di cura se in quel momento si libera uno studio medico, c'è uno studio medico libero e sei il primo della fila. Primo della fila tenendo conto del codice di gravità. E quindi ne passa uno. E poi ho le tre azioni di time out, se sono un bianco e mi stufo dopo un po' me ne vado, se sono un giallo mi stufo dopo un po' divento rosso, se sono rosso e mi aggravo dopo un po' divento nero. Quindi all'out posso arrivare in due modi, o sono bianco e mi stufo, oppure sono arrivato e mi hanno curato, oppure sono uscito dalla porta del retro. Quindi ciascun parte, immaginiamoci che questo sia lo schema generale, e sopra ci sono tante piccole pedine che rispondono ai singoli pazienti. Arriva uno qui, poi va qui, poi va qui, poi va qui e poi esce. Tanti puntini, una lista di puntini, una lista di pazienti, ciascuno dei quali ha queste informazioni associate a sé. Ok, allora, su questo facciamoci, diciamo questo modello qua ci aiuta a ragionare sullo stato del sistema, quali sono le informazioni che dobbiamo avere per poter capire in che stato del sistema e quindi come potrà evolvere. Dobbiamo sapere quanti pazienti ho, quali sono, e ciascuno di essi dov'è, dove si trova, che colore ha e dove si trova in questo new treating, waiting treating out, in questa sequenza. il tutto parametrizzato da dei parametri d'ingresso, sicuramente un parametro è il numero di studi medici, l'avevo chiamato NS prima, sicuramente un parametro sarà l'arrivo dei clienti, degli utenti, scusate, dei pazienti, dobbiamo modellare in qualche modo come arrivano. Allora, magari modello il fatto che in un certo giorno ne arriva un certo numero con una certa periodicità, questa è la cosa più semplice, arriva uno nuovo ogni torminuti. E questo che arriva, che è gravità? E che cosa decide, come fa a decidere il triage? Nella realtà guarda la persona, gli parla, ma nella nostra simulazione possiamo dire estrae a caso 33, 33, 33 con l'iguale probabilità dei tre colori, oppure 50, 25, 25, va a sapere, oppure a rotazione, il primo che arriva sarà bianco, il secondo giallo, il terzo rosso, poi di nuovo bianco, poi giallo, poi rosso, che non ha nessuna logica, però è un modo per simulare qualcosa. E qui dobbiamo decidere, no? come simulare l'effetto del triage che è legato all'arrivo del paziente. Vogliamo simulare, ad esempio, dalle 8 alle 20 dei pazienti con questo tasso d'arrivo e con questa distribuzione della loro gravità. Chiaro che se sono, che ne so, all'ospedale CTO arriveranno quasi tutti i codici rossi, perché sono quegli ospedali che già sono specializzati in grandi traumi. Allora sarà una distribuzione di arrivo diversa rispetto magari all'ospedale di provincia dove arrivano dei casi più moderati. E' qua che sta questa distinzione. Oltre che sul numero di studi disponibili e sul numero di pazienti che complessivamente arriveranno. E che cosa voglio calcolare alla fine? Vabbè, tre numeri utili sono sicuramente i numeri di pazienti che ho curato, che sono usciti, i numeri di pazienti che hanno abbandonato e i numeri di pazienti che ci hanno abbandonato, che ci hanno lasciato. La somma di questi tre deve fare il numero di pazienti che è entrato. Cioè questo numero di pazienti totale, iniziale, o se ne sono andati o li ho curati o sono morti. Non c'è altro modo di uscire da quel grafico. quindi in realtà noi simuliamo bisogna essere precisi alle 20 che cos'è? La fine della simulazione o è la fine dell'arrivo dei pazienti? Perché se un paziente mi arriva alle 19, e 58 magari sta ancora dentro tre ore. Allora noi possiamo decidere che alle 20 fermo la simulazione, allora chiaramente avrò dei pazienti che sono arrivati ma non sono ancora usciti. E vabbè, sono ancora lì. Oppure lascio andare avanti la coda degli eventi fino a quando non finisce, ovviamente i pazienti smettono di arrivare, gli altri però vanno avanti nella loro cosa e fermo la simulazione quando avrò finito di lavorare gli ultimi pazienti. Allora a questo punto saranno tutti usciti in un modo o nell'altro ma avrò simulato oltre le ore 20. Vabbè, poi tutti questi fattori qua su cui abbiamo messo i numeretti, chiaramente ciascuno di questi può essere randomizzato, può essere sostituito anziché una costante messa lì a caso, magari una costante presa dai dati reali oppure una distribuzione statistica presa dai dati reali. Chiaro che se vogliamo avere degli output diciamo così utili, realistici dobbiamo avere anche degli input altrettanto realistici. Ok, raccontate queste cose dobbiamo però metterci a costruire questa simulazione che chiamiamo emergency. Prendiamo un normalissimo progetto Java lo chiamiamo emergency. Emerge, cosa ho scritto qua? En, sì. Allora, qui ovviamente è un progetto che ci richiederà, ci terrà impegnati per un po' di tempo, noi sappiamo già lo scheletro che cosa ci serve, ci serve sicuramente una classe la mettiamo in un package che si chiama IT, Polito, TDP, emergency. Possiamo fare una classe che si chiama simulator. Facciamo una classe che si chiama evento. Facciamo una classe che si chiama test simulator. come diceva un P di centano il meno è fatto. Adesso dobbiamo fare il più. Ragioniamo anche se in modo più articolato come abbiamo ragionato sull'altro esempio. Quindi, il simulatore che cosa avrà come parametri dello stato del mondo, stato del sistema, quali saranno i parametri di ingresso, di tuning, quali sono gli indicatori di uscita, gli output, e poi la cosa più facile è la cosa degli eventi. Ho questi quattro gruppi di variabili per la classe simulatore. per la classe evento la domanda che mi devo fare è vado sulla classe evento e quali sono i tipi di evento supportati? Noi abbiamo copiamo quello che abbiamo fatto l'altra volta. Abbiamo definito un'enumeration event type quali sono i tipi di evento dobbiamo scriverli qua e poi avrò i campi che rappresentano l'evento stesso. Il tempo magari l'altra volta abbiamo usato un intero adesso proviamo a usare i tipi temporali. stiamo simulando all'interno di una giornata e quindi potrebbe bastarci l'informazione di time non di date potremmo dire ad esempio che il tempo sia private una variabile di tipo local time e poi private event type ma poi ho anche altre informazioni forse forse adesso vediamo dove metterle il colore però il colore forse non è legato all'evento è legato al paziente cioè forse nel nostro modello ci serve una classe in più che rappresenti il singolo paziente perché abbiamo bisogno di associare dell'informazione a quel paziente che non è detto che sia negli eventi che gestiscono il paziente perché magari lo stesso paziente sai vede 5-6 eventi durante il suo ciclo di vita arriva triage attesa il time out il trattato eccetera eccetera sono tanti eventi diversi che dicono cosa succede non dicono direttamente a chi succede e che caratteristiche ha la persona a cui succede quindi ci sono delle informazioni che sono informazioni di stato fanno parte dello stato del sistema in qualche modo che sono l'elenco dei pazienti per gestire un elenco di pazienti mi serve una classe che descriva il singolo paziente quindi mi serve una classe che chiamo paziente patient poi pensiamo che cosa metterci dentro e dentro l'evento chiaramente avrò un riferimento a quale paziente si infelisce questo evento è morto è morto chi? l'evento deve dirmi chi è morto quindi sarà un private patient ogni volta che schede un evento ok è entrato e non so di il dottore chi? 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 sul patient ci arriviamo tra un attimo tipi di eventi i tipi di eventi forse sono questi qua le frecce sono le cose che fanno cambiare da uno stato a un altro quindi arriva un nuovo paziente non c'è una freccia disegnata ma c'è sicuramente una freccia che entra qua dove si crea il paziente triage il paziente esce dal triage a questo punto ha un codice tocca a me entrare free studio time out time out se sono giallo time out se sono bianco time out se sono rosso comunque time out succede qualcosa e uscita dallo studio non gli ho dato un nome questa freccia qua però possiamo dire è curato gli eventi rappresentano le transizioni da uno stato all'altro gli stati rappresentano invece l'informazione del paziente il singolo paziente quando prima abbiamo detto immaginiamoci i pazientini messi qua vuol dire che questo signor paziente qua è in waiting ed è giallo sono informazioni del paziente sono informazioni statiche ho usato il verbo essere il paziente è giallo in questo istante è giallo quando dico il paziente è giallo sto dicendo in questo istante di tempo ho fermato il tempo questa è l'informazione di stato in questo istante il sistema si descrive con queste informazioni gli eventi invece sono le transizioni di stato succede qualcosa per cui lo stato che ci sarà dopo è diverso in qualche pezzettino rispetto allo stato che c'era prima quindi se vado a fotografare il sistema un attimo prima e un attimo dopo qualcosa è cambiato è cambiato in corrispondenza di un evento che mi descrive che cosa è successo affinché lo stato cambiasse non è sempre facile distinguere che cosa è stato e che cosa è evento però cerchiamo di io mi aiuto dicendo pensando lo stato come qualcosa che posso fotografare a tempo fisso se un certo istante di tempo non voglio sapere cosa è successo prima non voglio sapere cosa succederà dopo descrivimi il sistema adesso quali sono le informazioni che ti servono mi serve sapere quante persone sono nella strada di studio nella strada di aspetto per ciascuno di queste che codice ha per ciascuno di queste da quanto tempo è lì ad esempio più altre informazioni che scopriremo probabilmente quante persone ci sono nei tre studi eccetera e questa è l'informazione di stato per parlare di eventi mi chiedo cosa può causare un cambio di stato cosa è che può influire sul numero di pazienti che sono in strada di aspetto che uno muoia o che uno venga curato cosa è che può influire sul colore di chi è in strada di aspetto è il time out da giallo diventa rosso da rosso diventa nero e quindi sto parlando di verbi di transizione di azioni quindi i tipi di eventi sono le cause che possono cambiare l'informazione di stato arriva un nuovo paziente che insomma chiamiamolo new poi quel paziente nuovo che è arrivato ha completato il triage e quindi andrà in strada di aspetto bla 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 poi poi si ci abbiamo detto se sono in strada di aspetto possono capitarmi due cose time out oppure vengo chiamato dentro ho dato un nome a questo evento free studio poi posso uscire che so mi hanno curato dallo studio esco dallo studio termina il mio tempo durante la di visita di cura e quindi sono curato dei eventi quando io vado a finire in stato out ovviamente anche in stato black non ho più nulla non capita più niente in stato black non capita più niente per definizione in stato out capitano altre cose ma fuori dal pronto soccorso quindi questi sembrano essere i vari tipi di eventi che possono capitare a un determinato paziente quindi la nostra simulazione sarà un pochino più complicata anche perché poi ciascun paziente ciascuna di queste azioni ha delle sfumature la pitrage è facile ma le altre ok questo è l'evento sono gli eventi possibili torniamo allo stato una volta che ho definito gli eventi faccio in fretta anche chiamare la cosa degli eventi ogni tanto scriviamo una riga di codice facile dai private priority queue di event queue ok strato del sistema strato del sistema devo sapere allora abbiamo detto 17 volte devo sapere quali sono i pazienti in gioco quindi proviamo a buttare giù lista di pazienti poi ciascuno avrà degli attributi che dobbiamo ancora analizzare però lo sapere poi una lista una cosa prioritaria non lo so adesso ci ragioniamo però sicuramente una collection che contenga i pazienti una o più boh una in totale una per chi è in strada aspetto una per chi invece è nello studio non lo so vediamo di sicuro da qualche parte dobbiamo avere l'elenco dei pazienti e di ciascuno saprò ovviamente dove si trova poi cosa può influenzare l'evoluzione del sistema beh chiaramente questa cosa qua tutte le volte che arriva un new si aggiunge un elemento nella lista di pazienti poi il paziente una volta che c'è dentro arriva a triage cambio il colore del paziente anzi assegno un colore al paziente ma non ne creo uno nuovo però in realtà è ancora tutto dentro questa lista di pazienti l'informazione dell'effetto dell'azione di triage time out time out cosa può fare può cambiare il colore può cambiare lo stato del paziente può farlo uscire può farlo morire non mi crea nuovi pazienti ma di nuovo è già tutto descritto dall'informazione sul paziente vuol dire che dentro il paziente dovrò avere anche lì delle informazioni che dicono se sono giallo o verde avrò un'enumerazione di stati possibili in cui si può trovare il paziente l'evento free studio invece richiede un'informazione in parte richiede un'informazione in più cioè quando è che si libera uno studio o uno studio è libero e beh dipende da fatemelo dire al contrario quando arriva un nuovo paziente questo deve attendere o può entrare direttamente in uno studio medico probabilmente se ci sono studi liberi può entrare ma devo sapere quanti sono gli studi liberi o quanti sono quelli occupati quindi questa è un'informazione che cambia vedete che per assurdo qua abbiamo saltato un passaggio o meglio se io arrivo alle 8 del mattino e sono anche in codice bianco ma non c'è nessuno io entro in triage io vado direttamente in uno studio perché ci sono studi liberi però per sapere se vado in strada attesa o posso andare direttamente in studio devo sapere se ci sono studi liberi o no e questo è un po' come le macchine a noleggio forse non mi interessa sapere da quale medico vado ma se c'è almeno un medico libero se invece i medici sono tutti occupati ovviamente il triage ti manda pensare d'aspetto quindi mi serve sicuramente sapere anche il numero di che è un intero studi liberi che ovviamente fa il paio col numero di studi totali che sarà il mio parametro d'ingresso studi liberi inizialmente l'otto del mattino lo impostiamo studi totali e poi lui varierà oscillerà tra zero il numero di studi totali man mano che la giornata prosegue così a prima analisi non mi pare che sia necessario per descrivere lo stato del sistema altra informazione rispetto a questa cioè abbiamo descritto i pazienti e abbiamo descritto i medici cosa fanno i pazienti cosa fanno i medici i medici li abbiamo descritti in modo molto semplice dicendo quanti di essi sono liberi in quell'istante di tempo gli altri parametri sono quelli diciamo così definiti nel nel testo ce n'è uno che rappresenta l'arrivo ci sono due parametri che rappresentano l'arrivo dei pazienti che è il numero totale dei pazienti e la frequenza con cui arrivano in realtà questi due valori non sono indipendenti nella slide se vogliamo c'è una semplificazione c'è un diciamo un leggero conflitto nel senso che abbiamo tre informazioni numero di pazienti frequenza di arrivo e orario simulato e questi tre non sono variabili indipendenti perché il numero di pazienti moltiplicato il tempo di arrivo deve dare la durata della simulazione non posso dire che ho 100 pazienti e arrivano uno all'ora perché all'ora in 8 ore non arriveranno mai 100 quindi io dovrei scegliere se impostare il numero di pazienti noto e poi dividere dalle 8 alle 20 cosa sono 12 ore e dividere i pazienti spalmandoli in quelle 12 ore che mi sembra un'operazione forse un po' innaturale oppure definisco l'intervallo che può essere un intervallo fisso oppure minimamente stocastico e poi applicando questo tempo di arrivo su queste 12 ore il numero di pazienti sarà quel che sarà come il numero di clienti delle auto una conseguenza del tasso di arrivo quindi in questo caso il numero di pazienti lo vado più a misurare come output che non come input forzato non posso forzare indipendentemente queste due variabili quindi decidiamo magari che come variabile ingresso ci sia il tasso di arrivo e visto che il tempo avevamo deciso di misurarlo come variabile temporale quindi in questo caso è un local time l'intervallo di arrivo lo possiamo misurare con una duration che è la classe di java time che rappresenta a time based amount of time cioè una quantità di tempo misurata sulla scala dei tempi quindi in minuti in secondi in ore qualcosa che è compatibile con un time con un local time quindi questo qua potrebbe essere il t di arrivo come si chiama sullo slide arrival facciamolo alla java dai t a maiuscola e quindi vorrà dire che poi mi calcolo il numero di pazienti totali come output anziché come input quindi private int n patients totali poi ho altro dato la simulazione inizia alle 8 e finisce alle 20 quindi possiamo avere un time di inizio simulazione private local time sim start e un private local time sim stop o end e poi ho quella pallorissima tabella di tempi che era indicata qua cioè tutti i tempi di passaggio tutti i time out tutti i ritardi tutti i tempi di trattamento eccetera eccetera sono tutti i parametri di ingresso sono dei parametri che influenzano la simulazione e quindi sono tutti delle duration possiamo chiamarlo triage time poi private abbiamo detto questo è il 5 minuti di triage poi c'è il time out e sono bianco duration time out white private duration time out yellow private duration time out red poi ci sono i tempi di cura se sono bianco se sono giallo se sono rosso quanto tempo ci mettono a curarmi dimmi queste sono delle allora le possiamo trattare come delle costanti o come dei parametri di simulazione dal punto di vista del simulatore sono dei dati di ingresso quindi devono essere impostati prima che la simulazione parta se fossero anche delle costanti io previsco comunque dargli un nome esplicito perché poi nel codice mi perdo se metto dei numeri delle costanti poi io posso decidere che queste costanti siano fisse quindi il simulatore le conosce e non le posso toccare oppure siano impostabili dall'esterno dipende se le metto se le metto un settero o no essenzialmente però sì sono tutti valori preliminari che costanti che durante la simulazione a un certo punto servirà a consultare e allora gli do un nome sono tante sì allora abbiamo detto le altre duration sono quelle del trattamento treat o chiamiamola heal prima abbiamo chiamato heal guarisci un white private duration guarisci un giallo private duration guarisci un rosso abbiamo altri tempi da considerare spero di not viaggi white yellow red poi ci sono questi time out white yellow red altri passaggi dipendenti dal tempo boh non ne vedo comunque mi appello alla domanda che ha fatto lui per dire ma davvero vogliamo fare un costruttore con 72 parametri cioè prima ricordate che aveva un costruttore con 4 parametri già lì era un casino perché c'era una sfizia di numeri e non era evidente che cosa fosse ciascuno di questi numeri ne avevamo 4 però 0, 1, 5, 10 effettivamente è molto scomodo creare una classe con un costruttore che ci vuole una settimana a scriverlo allora quello che si può fare magari torna comodo è assegnare a questi valori a queste variabili dei valori di default che decidiamo noi qua e poi anziché fartelo specificare nel costruttore darti dei setter per cui se vuoi dopo che hai creato la classe prima di fare il run te li vai a modificare ma solo se vuoi quindi in questo caso si potrebbe fare punto studi totali oppure scegliere no alcuno il numero di studi lo voglio dare come parametro perché quello è più importante gli altri e quindi non gli do un valore di default ti obbligo a specificarlo nel costruttore gli altri invece ti do un valore di default ad esempio ti arriva la duration di 10 minuti potrebbe essere duration punto ov di 10 la temporal unit minutes come si chiama non mi ricordo come si fa ah si ci sono delle costanti minutes con la n per un attimo questa costante va qualificata con un package duration punto ov lui la fa facile perché si le 3 hours crono unit eccolo qua eccoli qua che va ovviamente importato vedete che il crono unit è una enumerazione cioè un elenco di costanti quindi ov è il costruttore ricordiamoci che le classi di temporal sono tutte immutabili quindi non hanno un costruttore new ma hanno un costruttore una factory ov crea una durata di 10 10 cosa 10 minuti simulation start è local time of ore e minuti int hour int minute 8 0 sim stop un nuovo local time of 20 0 a due parametri che sono hour e minute local time poi c'è la versione con tre parametri in cui posso anche dare i secondi ma non ci serve tempo di triage avevamo detto che erano 5 minuti 5 crono unit minuti copiamolo sotto poi cambiamolo solamente i numeri sono tutte duration queste non ricordo se nelle slide era scritto il valore dei time out poi sono solamente indicati come pardon dove erano con delle costanti non c'è scritto no quindi possiamo inventarcelo diciamo così il time out di un bianco il bianco può aspettare un'ora prima di andarsene un giallo magari anche lui aspetta un'ora prima di aggravarsi e un rosso dopo 30 minuti muore tempi di cura avevamo detto che erano 10 15 30 se non sbaglio che erano questi qua 10 15 30 10 15 30 e abbiamo fatto le variabili di ingresso tutte impostate a un valore di default e poi faremo creare all'eclips un setter per ciascuno di queste in modo che poi il programma chiamante possa volendo impostare un valore diverso dal default ma se lo fa lui i valori di uscita sono relativamente più facili ce lo dice il testo che cosa vogliamo misurare vogliamo misurare il numero di pazienti il numero di pazienti totali li abbiamo già messo il numero di pazienti curati che hanno abbandonato o che sono morti va bene private int and healed patients poi ci abbiamo abbandonati e il numero di pazienti morti queste sono le variabili che dobbiamo calcolare quindi ogni volta che succede un evento che aumenta che influenza una di queste quattro variabili dobbiamo ricordarci nell'elaborazione dell'evento di aggiornarla chiaramente il pazienti lo incremento quando c'è l'evento heal abandoned patient lo incremento quando ho l'evento timeout sul bianco ed il pazient lo incremento quando ho l'evento timeout sul rosso dimmi and patients potrebbe essere anche questa la lunghezza della lista patients ma per l'inizio questa? sopra la lista si potrebbe essere il size la sua domanda è se and patients è ridondante perché in realtà il numero di pazienti totali arrivati sarebbe uguale al numero di pazienti in questa lista può darsi se decidiamo che i pazienti li teniamo nella lista per sempre se invece decidiamo che una volta che un paziente è curato lo cancello questa lista dipende come gestiamo questa lista qua nel caso in cui i pazienti li inseriamo al new e non li togliamo mai ma li cambiamo lo stato si alla fine and patients coinciderà con la lunghezza della lista e quindi il get and patients potrebbe semplicemente richiamare quella con l'informazione senza avere una variabile in più e quindi tu dici ce l'ho già tracciata gratis no? perché ce l'ho già nella lista dei pazienti si può essere allora aggiungiamo ancora un paio di metodi perché a questo punto tutte queste grossa manciata di variabili dobbiamo decidere come dargli in pasto al costruttore vedete che un costruttore così fa un po' paura ma noi abbiamo detto che l'unica variabile che vogliamo che sia obbligatorio specificare durante il costruttore è il numero di studi medici studi totali è l'unica che mi ha scritto in italiano questa vabbè farò lo stesso dai cambiamo abbiamo fatto l'inglese facciamo anche questo studi liberi facciamo un rename vabbè lo faccio con calma non mi faccio aspettare mentre facciamo un rename stupido quindi il costruttore sembra facile poi se voglio impostare a un valore diverso dal default i vari parametri mi creerò i vari get resetter adesso andiamo a vedere i get resetter da creare tutte le variabili che sono i parametri in input meritano di avere un un setter quindi heal read è il tempo di heal set heal set heal numero di pazienti abbandonati invece ha un output e quindi avrà un getter non un setter numero di pazienti morti ha un getter numero di pazienti curati ha un set guariti ha un setter numero di pazienti totali ha un getter patient invece no è una lista privata mia q è mia privata ora di inizio della simulazione la posso impostare con un setter ora di fine della simulazione la posso impostare con un setter studi liberi è una variabile di stato interna quindi non deve essere né visibile né impostabile dall'esterno i studi totali invece si deve essere impostabili dall'esterno frequenza di arrivo dei pazienti impostabili dall'esterno time out impostabili dall'esterno e triage time impostabile dall'esterno sono andato chirurgicamente a creare solamente quelli che mi servivano il numero di aspetta ho sbagliato il numero di studi totali in realtà non dovrei metterlo perché è già nel costruttore mi sarebbe stupido costruire il simulatore con un valore e poi cambiaglielo subito dopo no togliamolo ok genera 100 righe di codice con tutti questi getter setter oh se siete pigri potete generare getter setter per tutti ma così almeno non ci confondiamo rimangono privati quindi senza getter senza setter coda effettivamente una coda nostra e lo stato del sistema attraverso il quale valutiamo l'evoluzione e non è né impostabile dall'esterno né visibile dall'esterno e queste sono le variabili con cui ci dovremmo giocare i vari eventi no allora gli eventi abbiamo definito grosso modo i tipi di eventi e il fatto che devono essere riferiti a un paziente ciò che dovremmo ancora fare prima di iniziare a scrivere la simulazione vera e propria sarà ragionare su quali sono le informazioni da mettere dentro il paziente sicuramente il colore il tempo d'arrivo e poi chissà cos'altro magari lo scopriamo anche implementando ok su questo chiaramente andiamo avanti lunedì prossimo se non ci sono domande vi posso salutare grazie